ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dove vi farò vedere dove andare a scaricare il nuovissimo centro 4 per il vostro pc anche se sono su mac allora innanzitutto apriamo il browser vi metterò un link che vi aprirà questa pagina anzi un link che vi aprirà subito almeno centro 4 tra poco anche il gameplay sul pc del mio amico dark school 369 bene ecco qua il gioco centro 4 pc ita completamente in italiano qua tutte le info ve le leggete per bene poi requisiti windows vista tutto 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 guardate se il vostro pc se questo gioco va bene per il vostro pc poi per vedere le immagini potete vedere qua cliccando su spoiler clicca per visualizzare gli screenshot a te giù guardate tutte le immagini guardate che bella sta qua bene allora per scaricare dovete cliccare su appunto download ne aprirà ad fly e dovete aspettare 5 secondi poi per la crack dovete cliccare su crack aspettare altri 5 secondi dopo 5 secondi andate avanti cliccate avanti cliccate avanti poi anche qua cliccate avanti vi aprirà mega bene scarica fate scarica sentero 4 e sentero 4 e sentero 4 la crack e qua il file completo questa la crack bene e video molto veloce però magari essenziale molto importante per scaricare questo fantastico e nuovissimo gioco e potete anche visitare il nostro forum dove ci sono molte sezioni come giochi windows applicazioni windows giochi mac applicazioni film musica richiesta potete richiedere i giochi richiedere musica e film e c'è la sezione youtube potete vedere che abbiamo molte visite totali perché è molto e me come si dice siamo molto attenti perché tipo è un forum attendibile ci visita molta gente da tutto il mondo mi raccomando fatela anche voi il mio video finisce qua a presto e ci vediamo al prossimo video con il gameplay appunto di sentero su pc ciao ciao